hi guys sono appena rientrato a casa dopo essere stato al centro medico insieme una clinica privata dove ho fatto una risonanza magnetica ma se vuoi sapere in che parte del corpo l'ho fatta e il risultato di questa risonanza guarda il video fino alla fine ed iscriviti al canale perché oggi voglio iniziare spiegandoti perché sono in italia in questo momento questa quale la risonanza magnetica è solo una conseguenza non è stata la cosa che ha fatto scattare il ritorno in italia praticamente se ricordi i video sui propositi del 2024 che ho fatto all'inizio dell'anno avevo detto che volevo fare un documentario sulla traversata delle ande con la panda insieme a un video operatore purtroppo questo video operatore ha avuto problema non ha potuto venire in viaggio con me di conseguenza mi sono preso un po più di tempo alle galapagos e ho anche pensato quella strada la farò una volta sola nella vita con la panda la voglio fare la voglio riprendere la voglia immortalare e la voglio veramente trasformare in un documentario però non avevo l'attrezzatura e il periodo era il peggiore dell'anno perché in questo momento è il periodo delle piogge sulle ande di conseguenza i panorami probabilmente sarebbero stati offuscati dalle nuvole dalle piogge dal fango in più con una attrezzatura inesistente avevo solo il telefono e il drone questo periodo in italia mi serve per imparare a usare meglio la mia attrezzatura in caso non riesca a trovare una persona che verrà con me lo farò da solo però con un'attrezzatura adeguata e mi dà anche il tempo di aspettare l'arrivo della buona stagione quindi sole sereno poche nuvole panorami da panico però ne ho approfittato per fare una manutenzione al mio corpo è un paio d'anni che mi porto appresso due problemi di salute barra fisici uno che sapete già se mi avete seguito in questo ultimo anno è questo sfogo che ho sempre sulla testa che io in un primo momento avevo imputato all'uso del cappellino pensavo lo sporco il sudore mi facesse crescere questi fruncoli questo sfogo dopo tre o quattro mesi che non usavo più il cappellino questo sfogo ha continuato a uscire di conseguenza ho dato la colpa alla macchinetta per tagliare i capelli ho detto magari sono allergico al metallo della piattina quella che si appoggia qua sul cranio per tagliare e ne ho comprata un'altra con la piattina in plastica ma anche qui non è cambiato nulla di conseguenza sono venuto in italia sono andato dal dermatologo e in tre minuti mi ha detto che avevo una infezione batterica nonché una lego sul foglio perché non mi ricordo il nome follicolite al cuoio capelluto che si cura semplicemente con una cura antibiotica non è via orale ma è una è un liquido simile al sapone per le mani che si mette due volte al giorno su tutta la testa perché mio sfogo ormai è un po ovunque per una ventina di giorni ma detto che in 15 giorni dovrebbe scomparire tutto ma non garantisce che questo sarà per sempre di conseguenza mi ha consigliato di portarmi il viaggio un flacconcino perché se dovesse ricomparire allora posso fare questo trattamento nella zona locale solo dove è venuto fuori lo sfogo e dovrei risolvere il problema dopo di che è un altro problema che mi porta avanti da tempo e qui per capire e per cercare di risolvere ho dovuto andare da un ortopedico praticamente ho un problema alla spalla sinistra questa spalla qua dove ho fatto la risonanza magnetica oggi ancora poi vi leggo l'esito però ancora non so aspettando risposta all'ortopedico su che terapia devo fare ma la cosa strana è che io non ho male la spalla sotto sforzo se sto facendo qualche cosa se lavoro se alzo un peso non ho male in quel frangente ma ho male solamente a riposo quando sono seduto per un po' quando sono sdraiato e infatti quando ho fatto il trasferimento di 24 ore dal confine tra colombia ed ecuador a bogotà in pullman sono state 24 ore veramente difficili perché ho avuto quasi sempre male a questa spalla adesso vediamo cosa ci dirà l'ortopedico in base alla terapia che farò programmerò la mia partenza perché nella visita mi ha detto che potrebbe esserci il bisogno di fare delle terapie don d'ardurto almeno tre una settimana e se inizio settimana prossima vuol dire che c'ho ancora tre settimane e mezzo da stare in italia oltre a un ciclo di fisioterapia dove mi insegneranno a fare degli esercizi per tonificare la spalla per fare qualche cosa al tenino lo so però questa era una supposizione adesso stiamo aspettando il risultato finale tra l'altro farò un altro video la settimana prossima che mi dirò un po tutto il risultato finale ma vi dirò anche quanto speso dato che io essendo residente negli stati uniti non posso usare la sanità pubblica di conseguenza sto andando tutto da privato anche se questa cosa qua non è proprio vera perché se io avessi comunicato all'aere associazione italiana residente all'estero che ero per un po in italia potevo usufruire del sistema sanitario ma voi meglio di me sapete i tempi biblici che ci vogliono per risolvere dei problemi simili quando non si è in pericolo di vita ma sono piccole sciocchezze che però non danno fastidio io non avendo tutto questo tempo sono andato da privato e vi farò un resoconto di tutte le spese tra l'altro in questi mesi ho imparato un'altra cosa non vi voglio più raccontare quello che succederà nel mio futuro perché siccome in questo caso una persona non può partecipare al video all'escursione al viaggio o io cambio idea vi ho detto una cosa che non succederà non la vedrete e quindi questa cosa qua non mi piace di conseguenza da oggi in avanti vi parlerò solo di cose che sono successe in passato per quanto riguarda il futuro solo due cose sette che due progetti che sta lavorando uno lo sapete già che questo viaggio in amazzonia con mara e danilo visto che ho diverso tempo qui in italia ho pensato di fare anche un video magari la settimana prossima dove vi racconterò ma vi farò anche vedere dove andremo cosa faremo come dormiremo dove mangeremo per fare un bel resoconto anche perché abbiamo ancora due posti disponibili così se qualcuno ancora incuriosito e semi indeciso magari con questo video vedrà le bellezze e l'esperienza l'avventura che andremo a fare magari deciderà se sei già deciso in descrizione c'è l'email da mandare marati risponderà con tutte le informazioni ultima cosa prima di salutarvi in questo periodo ho imparato un'altra cosa come sapete nell'ultimo anno e mezzo più o meno ho vissuto prevalentemente coi miei risparmi perché le entrate da youtube sono veramente basse non ho abbonamenti per vedere i miei video su youtube non ho nessun tipo di entrata tipo non mi viene anche più il nome di quella piattaforma che ogni qualche creator la fa che si paga un abbonamento per dei servizi extra pensate come sono messo non mi ricordo neanche il nome comunque non c'è niente di conseguenza io però ho imparato e penso che ovviamente sono un viaggiatore un buon viaggiatore non sono il miglior viaggiatore del mondo sicuro ma neanche il peggiore a me piace tantissimo organizzare non sono l'organizzatore più bravo del mondo ma neanche il peggiore di conseguenza ho voluto unire queste due cose qua e sto cercando di trasformare questa passione questi skills queste cose che so fare in un lavoro e di poter guadagnare qualche soldo per comunque continuare a viaggiare i miei progetti oggi i progetti a cui sto lavorando sono tutti basati comunque al viaggio non c'è niente fuori da questo mondo non c'è neanche un'idea che mi porta fuori dal mondo del viaggio è tutto dedicato tutto pensato intorno al mio viaggio mi sembra di avervi detto tutto a ho ritrovato delle clip vi ho detto che li avevo persi e li ho ritrovati sono riusciti a recuperarle non tutte ma la gran parte quindi il prossimo video sarà ancora sulle galapagos mi dispiaceva non farvi rivedere visto che li ho recuperati e cercherò di mettere insieme una storia e di farvi vedere queste bellissime immagini di questo bellissimo arcipelago per oggi da domodossola è tutto passo e chiudo ciao scherzavo non ho finito il video vi devo leggere ovviamente cosa dice qua la risonanza magnetica prendo gli occhiali e vi leggo la risonanza magnetica dice che motivo dell'esame spalla sinistra dolorosa indagine risonanza eseguita con diversa raccolta dei tempi di eco secondo differenti piani ortogonali modicamente ridotto lo spazio sotto a cormiale non so cosa sia nelle sequenze eseguite a carico dei segmenti scheletrici ripresi nell'indagine non sono riconoscibili alterazioni del segnale compatibili con la presenza di lesioni osse né focali né traumatiche buono sembrerebbe buono no rapporti articolari scapolo omerali nella norma senza evidenza di versamento intra articolare e con labri glenoidei normo rappresentati quindi dovrebbe essere tutto a posto qua arriva la nota un po dolorosa modesta disomogeneità ed assottigliamento del tendine al sovraspinato nel suo tratto intermedio come per tendinopatia nella norma la restante componente tendinea la cuffia dei rotori non lesione tendine soddisfacente il trofismo dei ventri muscolari il tclbo che non so cosa sia risulta normalmente allocato di spessore regolare senza segni di tenosinovite in atto non versamento nelle borsi articolari questo è il risoroconto del mri risonanza magnetica aspettiamo notizie dal ortopedico ciao